E' molto importante il tema che si affronta in questa sede, ritrovare un'identità che al momento è latitante. Io credo che per trovare un'identità occorra non soltanto avere chiaro dove si vuole andare, quali idee sono quelle che devono guidare e orientare la nostra azione, ma anche contro chi bisogna prendere posizione. Perché il campo in cui ci si muove è sempre un campo già occupato da qualcuno e contro cui bisogna prendere posizione definendo contrastivamente il proprio programma d'azione e di ricerca. A questo proposito, in termini schmittiani, occorre identificare qual è il nemico. Il compito fondamentale di ogni politica è sempre individuare l'amico e il nemico. Questa è la dicotomia fondamentale di ogni politica. Il nemico principale oggi, in questo inizio di 2014, è indubbiamente sul piano politico il neoliberismo selvaggio che sta distruggendo la società, sta distruggendo il residuo welfare state, sta distruggendo le grandi conquiste sociali conquistate sul campo tramite il conflitto. Sul piano geopolitico il nemico principale sono gli Stati Uniti d'America, cioè quella potenza che dal 1989 ha innescato una quarta guerra mondiale ai danni di tutti i popoli e gli Stati che eroicamente le resistono ricordando che un altro mondo è possibile. Sul piano filosofico il nemico principale è l'individualismo, cioè quella teoria del mondo che variamente declinata assume l'individuo come unico riferimento negando in partenza la società, la comunità, l'esistenza intersoggettiva. Qual è il nemico dunque, se si assume come nemico principale, il neoliberismo oggi? Dettagliando più precisamente il punto. Il nemico oggi non può che essere l'euro. L'euro che non deve essere assolutamente identificato con l'Europa ma che è anzi il principale nemico di un'idea di Europa, dei popoli fraterni, uguali, di un'Europa democratizzata rispettosa delle etnie e delle religioni. Oggi una vera identità conflittuale o positiva, diciamolo pure anticapitalistica, che sappia riappropriarsi della passione durevole dell'anticapitalismo e della ricerca di un'umanità di liberi e uguali, questa identità deve basarsi oggi su un anticapitalismo militare. E questo anticapitalismo militante non può non essere quello che assuma l'euro come proprio riferimento polemico di Stato. L'euro non è semplicemente una moneta neutra, come continuano ossessivamente a ripetere le anime bende. L'euro è un preciso metodo di controllo dei popoli, delle società e delle classi subalterne e un modo con cui il lavoro ancora una volta è stato vinto dal capitale. L'euro è, dal mio punto di vista, il fondamento assoluto di un capitalismo ormai integralmente spoliticizzato. Il primo compito di una critica oggi, che sappia e voglia richiamarsi a Marx, è quello di proseguire il discorso da lui avviato e interrotto nei termini di una critica dell'economia spoliticizzata. L'euro è esattamente il compimento di un processo di spoliticizzazione integrale dell'economico. L'euro serve esattamente a rimuovere quella residua egemonia della politica sull'economia che aveva caratterizzato a larga parte dell'avventura moderna, dello just publicum europeum e che oggi appunto sta scomparendo. Il transito dalla modernità alla cosiddetta postmodernità potrebbe anche essere letto volendo come il transito dal moderno Stato nazionale al postmoderno mercato transnazionale, che non conosce più barriere, limiti e conflitti. L'idea cioè di un capitalismo perfettamente realizzato è quella di un mondo in cui tutto diventa merce, in cui tutto riconosce nell'economico puramente autonomizzato il proprio riferimento. perché questo potesse accadere era necessario liquidare in via definitiva lo Stato nazionale come ultima forma di primato del politico sull'economico. L'euro è servito in Europa esattamente a questo, a svuotare la sovranità politica degli Stati per imporre l'unica sovranità del mercato, della finanza e del capitale. Chi pensa che oggi si dia un'identità immediata fra Euro ed Europa, pensando dunque che l'Europa perfettamente realizzata sia l'Euro, è o uno stupido o è in cattiva fede. Io penso che i più siano in cattiva fede, per il fatto che l'Europa così come oggi, un orribile lager economico, eurocratico in cui si perpetrano le peggiori tragedie, i peggiori genocidi finanziari degli ultimi anni, questo è l'Europa oggi, basti vedere il popolo greco sacrificato sull'altare di Monsio e le Capitale. Chi non capisce questo punto, ripeto, è o stupido o è in cattiva fede. Occorre prendere posizione contro questo. Chi crede che questo Euro, questa Europa sia un primo passo verso la grande Europa a suo tempo voluta e pensata da Canto, da Spinelli, non ha capito nulla. Questo è un primo passo verso l'abisso, se l'abisso non si è già pienamente realizzato. Chi ama l'Europa dei popoli fratelli, liberi, ugualmente sovranici, anni che si riconoscono nella loro differenza e insieme nella loro comune appartenenza al genere umano, non può che provare orrore per questa Europa. Questa Europa è la negazione del sogno di Canto e semmai il sogno, l'incubo visionario dell'Euro, potremmo dire anche. Un'Europa che lascia soltanto il nesso mercantile del puro rapporto di forza capitalistica. Ora, l'Europa così com'è, è esattamente il compimento della spoliticizzazione integrale dell'economia. L'Europa così com'è, è un'Europa in cui a decidere sono solo le banche e la finanza, in cui della volontà dei popoli non importa più nulla a nessuno. Non sono più soltanto, si va di bene, le classi subalterne a patire sulla loro carne viva tutte le conseguenze iniziali dell'economico ormai autonomizzato, ma sono anche i popoli. Il popolo greco, a cui già facevo riferimento, è quello italiano, che versa in condizioni ogni giorno peggiori, nel silenzio totale. Il paradosso del tutto inedito dello scenario in cui siamo sta nel fatto che gli stessi oppressi, cioè coloro che patiscono, ripeto, sulla loro carne viva quotidianamente le contraddizioni del sistema capitalistico e eurocratico, le vivono come se fossero necessità a cui non è possibile deporare. Le vivono come se fossero catastrofi naturali, non dipendenti dall'agire umano né da esso trasformati. Occorre defatalizzare questa mistica della necessità e tornare a pensare marxianamente il mondo oggettivo come nostro prodotto trasformato. Defatalizzare il mondo dovrebbe essere il programma primo di un nuovo partito politico che voglia ripartire da Marx, che sappia prendere in eredità lo spirito anticapitalistico, la passione durevole dell'umanità libera o dell'umanità socializzata, come diceva Marx, e che dunque mantenga stabilmente uno spirito di scissione rispetto all'odierno regno animale dello spirito capitalistico. Laddove la sinistra riprecipita in forme di adesione al capitale, di accettazione dei messi di forza capitalistici, lì bisogna prendere congetto, lì bisogna dichiarare la propria alterità rispetto a questa convivenza sempre più oscena tra sinistra e capitale. Bisogna riaffermare anzitutto il primato della comunità umana sui meccanismi anonimi feticizzati dell'economia e riaffermare la potenziale conflittualità degli oppressi. All'ordine del giorno deve tornare il conflitto, il grande latitante oggi del conflitto, dove per conflitto intendo esattamente questo, la capacità del servo eghelianamente di porre resistenza al Signore. Il Signore del mondo oggi è il capitale, nella forma dell'euro principalmente, per quel che ci riguarda. Significa riaprire una stagione di conflitto positivo. Laddove gli oppressi metabolizzano l'ideologia stessa del dominio, quella cioè che predica il dominio intrasformabile, quella che predica il mondo così com'è, non modificabile, allora lì la battaglia è persa in partenza. Lì il capitale ha vinto ancora prima che si scenda in campo. Quando cioè la sofferenza degli offesi del pianeta si spegne nella mesta solitudine, nel silenzio di chi pensa che il mondo sia ingiusto ma intrasformabile, imperfetto ma non perfettibile, lì allora il capitale ha vinto. E questo nemico continua a vincere da anni esattamente facendo leva sulla indisponibilità pressoché totale degli offesi a opporre resistenza. Occorre di nuovo invece disegnare un Weltbild, un'immagine del mondo alternativa rispetto a quella prosaica dei rapporti puramente mercificati sotto il segno del capitale vincente. Occorre proporre alternative e conflitti in nome di quelle alternative. Occorre anzitutto far balenare di nuovo il marxiano sogno di una cosa. L'umanità secondo rapporti caliberi o uomo. Occorre appunto riattivare il conflitto e perché questo sia possibile occorre reagire alla mistica della necessità. Il capitale oggi ha come unico obiettivo quello di predicare intrasformabile il mondo affinché esso lo diventi veramente. Cioè appunto il fatalismo dello spettatore rende fatale l'ordinamento del mondo. Laddove gli oppressi pensano che il mondo sia intrasformabile e allora non agiranno mai per trasformare. A questo mira oggi il capitale. Non predica le proprie virtù ma predica il proprio carattere destinale, intrascendibile, fatale. Occorre demistificare tutto questo e tornare a prospettare immagini del mondo alternativa in nome delle quali, ripeto, combattere contro il capitale. Occorre anzitutto non pensare che sia normale, naturale, intrasformabile questo stato di cose tremendo. Diceva Bertolt Brecht, ciò che accade sempre non trovate lo normale. Questo deve essere il motto, la stella polare di un pensiero effettivamente critico. Bisogna tornare a prendere posizioni criticamente sulla realtà, non accettarlo. Bisogna sottrarsi a quel cretinismo economico tipico dei nostri politici che ragionano solo in termini di cifre e di fascinazione per il numero e la quantità. Occorre far reincantare il mondo, far tornare grandi ideali alternativi nell'odierna notte del mondo, diceva Heidegger. Notte del mondo in cui la fuga degli dèi, la distruzione della terra, la massificazione dell'uomo e il prevalere della mediocrità, sono sempre parole di Heidegger, dominano su tutto il giro d'orizzonte. Le alternative sono due, o accettare tutto questo, o ribellarsi, o piegarsi alla logica del capitale trionfante come nuovo signore del mondo, o riprendere il conflitto in nome di un avvenire alternativo, in nome di una ulteriorità nobilitante. Occorre cioè defatalizzare l'esistente, tornare a pensare il presente come storia e tornare a pensare il conflitto come necessità per liberarsi dalla schiavitù che abbiamo prodotto noi stessi. Voglio chiudere questo mio intervento con un passaggio molto bello del Giulio Cesare di Shakespeare, in cui si dice testualmente, la colpa caro bruto non è nelle nostre stelle, ma è in noi stessi, se noi restiamo degli schiavi.